Professor Di Salvatore, vicenda a Borsacchio, quali sono i dubbi giuridici sul taglio del perimetro della riserva? Sono di due tipi, il primo riguarda la legittimità del procedimento perché questo l'ha detto la Corte Costituzionale in due occasioni e cioè segnatamente in relazione alla pineta tannunziana che riguardava appunto una pineta pescarese e in relazione al Parco Silente Viglino che quando si istituisce o si riperimetra con un taglio cospicuo una riserva o un parco occorre seguire il procedimento previsto per l'istituzione e questo non è stato seguito perché questo prevede la partecipazione degli enti territoriali. Il secondo motivo invece è relativo alla copertura finanziaria perché qualsiasi legge che comportasse spese deve sempre prevedere la copertura ad hoc e questo non c'è stato. È inevitabile, pare quantomeno inevitabile che dunque si finirà davanti ad un giudice per valutare la bontà del provvedimento? Allora dipende, non è così scontato ma probabilmente sì in due modi anche qui. O perché il governo deciderà di impugnare entro 60 giorni della pubblicazione della legge, la legge dinanzi alla Corte Costituzionale oppure attraverso un giudice, quindi probabilmente un TAR, quando se ne presenterà l'occasione. In quella sede lo stesso giudice potrebbe decidere di chiedere alla Corte Costituzionale se sia legittima o non la legge. In ogni caso il rischio è assolutamente alto e quindi prima o poi secondo me la mannaia del giudice costituzionale arriverà.